Spazio, se ci dirissi, Morelli, Paola, Morelli, Paola, mi faccio entrare nel clima, e DJ, quando entrare nel clima di pop, DJ, un po' più lungo, un po' più lungo, mi serve, grazie, mi sento un buco di questa cosa, quindi, Morelli, Paola, alla mia sinistra, Morelli, Paola, senti, alla mia sinistra, Sì, che siamo tornando all'aria a destra, mamma mia, se siete operati, vediamo, signori, diamo il piano, DJ, Ga Relations, try, zoom, DJ, e Muhammad,amba, più lunga, 3, 2, 1 Go! Un time, two time, one time, the two time, the three time, two time, one time, two time, and two times, we can hop on. Zero time. One time, two time, it's gonna be a move. One time, three time, one time, and two time, one time, costa ti multi time, Lesko game. Sì 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 ooooh ha fatto il primo Giulietta 3, 2, 1, passa il turno e le facciamo Fernando e avanti passa il turno Ines a la sinistra, Ines contro Francesco Capone. Unes controlli del operatore. Unes controlli. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. e a tutti. 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 a tutti.